Che cos'è lo spazio pubblico? Lo spazio pubblico è tutto quello, con una banalità, quello che non è privato. Che cos'è quello che non è privato? Oggi sono gli intestizi fra differenti costruzioni. La maggior parte, città come Mantua, Bolzano, Trento, Nerano, sono città straordinarie, che sono nate intorno agli spazi pubblici, al concetto di piazza, al concetto di strada, vicolo. La periferia è il luogo dove possiamo ricavare la qualità degli spazi pubblici, la nuova qualità degli spazi pubblici. Molte volte non c'è bisogno neanche di costruire, si può recuperare, ricucire, rimettere in sesto aree che sono completamente impossibili. E questo purtroppo avviene in tutta Italia, forse l'unica regione che è poco toccata da questi disastri è stato sia l'Alto Agile che il Trentino e probabilmente anche Arepe dei montanti.